ci sono molte applicazioni che ci permettono di fare il lancio dei dadi per esempio questo dice questo mighty dice hanno caratteristiche leggermente diverse ma in fondo si assomigliano tra loro qui per esempio abbiamo i vari tipi di dadi quindi da 20 ricosaedo da 12 il pentadodecaedro un dado da 10 un dado da 8 con l'ottaedro un dado da 6 col cubo e un dado da 4 col tetraedo poi possiamo scegliere di lanciare uno di questi singolarmente oppure prendere la foto ovviamente rilanciare il dado ma la cosa interessante è che possiamo scegliere un certo numero di dadi fino a 30 e lanciare tutti i dadi insieme e poi vedere i risultati e la somma possiamo combinare diversi gruppi di dadi quindi prendiamone pochi quelli sono più visibili e differenziabili e lanciare questo gruppo e anche qua ottenere la somma poi abbiamo la possibilità di vedere i nostri lanci quindi i relativi risultati resettare quindi cancellare tutti i vecchi lanci e andare a configurare cambiando l'aspetto il tipo di grafiche e così via il colore dei dadi eccetera con il quick roll abbiamo una procedura di lancio più rapida e diretta quindi non c'è il vero lancio ma immediatamente vengono scelti dei valori casuali i nostri dadi vengono impostati e vediamo l'altra applicazione non questa l'altra come dicevo sono piuttosto simili ho un notevole numero di dadi vedete che si sono tutti accattastati e devo qui in realtà questa applicazione è un pochino meno comoda perché quando ne ho tanti poi per eliminarli vedete devo eliminarli uno alla volta quindi diventa un po tedioso questo esercizio di farli sparire un po' alla volta il vantaggio qui ok è un numero di dadi vedete che è veramente una cosa lunga piano piano una alla volta e li faccio sparire finché ok non resto con nessun dado a questo punto qui ho una scelta diciamo un pochino più ampia perché ho il dado da 30 il dado da 24 quindi ho un dado con 30 facce e un dado con 24 facce che prima non avevo quindi mi può servire per alcuni lanci particolari anche qui ho i singoli valori e la somma quindi possono essere un ottimo strumento per alcuni esercizi legati alla probabilità al calcolo delle probabilità